Il Comune sciolga le riserve e paghi la quota per rimuovere l'amianto. A scriverlo è il Comitato Amianto di Via Malpighi ad Arezzo e il SUNIA, in un comunicato stampa nel quale si torna appunto a parlare dell'annosa questione. Il filo di lana si legge sempre più vicino ma non viene tagliato. Per la rimozione dell'amianto delle case popolari di Via Malpighi manca soltanto la delibera e il relativo impegno di spesa del Comune di Arezzo per la parte di sua competenza perché è proprietario degli immobili. Il 15 dicembre si è svolta l'assemblea di condominio ricorda Fabio Buricchi segretario provinciale del SUNIA. In quella sede è stato ribadito il percorso concordato, disponibilità di risorse statali, gestione dell'operazione dal progetto al collaudo da parte di Arezzo Casa, verifica da parte del Comune di Arezzo che con i pochi proprietari di appartamento paga anche la sua quota per i lavori. Il progetto che è stato approvato all'unanimità prevede una spesa di oltre 560 mila euro. Mentre i privati si sono detti disponibili a versare la quota di competenza, il Comune ha dichiarato che si adopererà per l'individuazione delle risorse economiche fatte salve eventuali eccezioni del suo servizio finanziario. Teoricamente dunque non dovrebbero esserci problemi visto che l'ente aveva dichiarato di voler impegnare 400 mila euro. Ad oggi però non è stata sciolta la riserva e questa rischia di diventare una storia infinita.